Buonifacio, dopo la bella esperienza dell'anno scorso in cui in pratica ha giocato sia a livello cadette che a livello juniore, si trova adesso in questo momento a giocare questa qualificazione Under-19, molto importante per il proseguo della stagione. Sì, è molto importante per me continuare anche questo percorso, comunque io ho già avuto esperienza, e con questo gruppo puntiamo in alto e speriamo di fare bene con questa qualificazione, puntiamo comunque anche in alto e ci stiamo preparando. Senti, la Polonia l'anno scorso vi ha dato un grosso dispiacere, che cosa ha lasciato quelle che erano in campo allora, rabbia o rassegnazione? Il primo sentimento che viene in mente è sempre la rabbia, però ci ha dato anche questo stimolo in più per migliorarci e speriamo domani di farvela vedere a tutti i polacchi.